Se c'è un piatto che amo fare è il pane è come se mi portasse con sé in una passeggiata tra lieviti, acque e farine ci siamo sugli ogni ingredienti muovo l'indice una spirale d'acqua tiepida a miele e lievito raccolgo la farina a piccoli gesti su malgrado la bagno fare il pane con le mani è una delle cose che amo di più non mi costa molto poi aspettare anzi, le attese e la lievitazione aiutano a dare un ritmo alle giornate confuse ascolto il suo respiro mentre si raffredda, è buffo è una piccola cosa croccante fuori e morbida dentro che riesce a farmi pensare che è tutto sommato la giornata non è poi così male grazie a tutti